Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Roma troviamo Corea Tratti tra Firenze Sud e Arezzo, Corea Tratti tra Firenze Nord e Firenze in Pluneta, Corea all'uscita di Firenze in Pluneta e Valdarno arrivando da Bologna. In A12 si segnala traffico rallentato alla barriera di Rosignano viaggiando in direzione sud. Sul raccordo Siena Firenze riduzione di carreggiate in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e San Donato, riduzioni in entrambe le carreggiate anche tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta. Da oggi sul ponte alla Vittoria Firenze restringimento di carreggiate in direzione uscita città per lavori alle condotte del gas. I lavori andranno avanti fino al 6 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie a tutti!